e lo costruisce. Signor Magia si diverte a manovrare e modificare geneticamente le parti tra pistoni, cilindri e quant'altro possa in qualche maniera modificare le prestazioni del trattore. Beh, abbiamo conosciuto un artista, signor Magia di Armoea. Ed ecco Cungia, partito! Dai, 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 vai, affondando, che fa? Affonda? No, forza! Dai! Sto andando, sto andando, sto andando, sto andando, forza! Vai, Davide, Davide, sì! C'è polvere, non lo vedo, no!